Sono stati molto divulgativi e credo che questo sia importante per il festival perché altrimenti non si riuscirebbe a far interessare anche solo i ragazzi. L'importanza è la divulgazione, l'avvicinamento sempre più, anche per vie alternative a quelle tradizionali della scuola, della didattica che mostrano la corda. Allora questo approccio così plurale, così popolare anche, ho visto molta gente, finora mi piace. Il mio pazzo lo tornava dal mare! Grazie a tutti! Grazie a tutti!